Ciao a tutti e bentornati sul canale! Allora, nuovo video, un video recensione perché ci tengo tantissimo a parlarvi di questo prodotto che mi ha cambiato resistenza. Allora, cercavo una ceretta naturale che potesse comunque essere anche molto buona e finalmente l'ho trovata. Io spesso facevo in casa la mia ceretta araba, quella allo zucchero e al limone però quando non ho tempo, perché comunque va preparata e occorre un bel po' di tempo per farla quando non ho tempo ho trovato questa sostituzione incredibile e si tratta della Epil Resin, resina depilatoria naturale adesso è un po' rovinata perché l'ho utilizzata e strautilizzata è praticamente una ceretta, appunto, come vi dicevo, in resina sono tutti ingredienti molto molto buoni è una ceretta con il 98% di prodotti naturali all'interno e funziona in una maniera facilissima non occorrono le strisce depilatorie ma va fatta tutta a mano vi faccio rupire meglio prima di tutto, come si utilizza? si immerge questo in una pentola calda come la ceretta normale va scaldata e quando è completamente liquida va presa con la spatolina di legno va applicata sulla zona interessata la lasciate raffreddare quindi non applicate nessuna fascia depilatoria al di sopra la lasciate completamente asciugare e quando è diventata fredda strappate via la resina e strappa i peli anche quelli più piccoli se non mi fa schifo ve lo faccio vedere quindi se siete delicati di stomaco non vedete questa parte come potete vedere sono dei peli veramente piccolissimi anche molto molto duri ed è difficile da strappare quindi sono rimasta veramente entusiasmata da questa ceretta la sto usando ormai da un bel po' di tempo mi ci sto trovando anche molto molto bene insieme a questo prodotto c'è anche l'olio quindi l'olio post depilatorio è una soluzione ritardante per la ricrescita devo dire che la soluzione ritardante è molto molto buona perché prolunga il tempo di crescita del pelo e mi ci trovo anche molto molto bene quindi devo dirvi che questi prodotti sono super super promossi quindi se stavate cercando una ceretta di questo tipo io vi consiglio appunto di provarla vi lascio giù nell'info box il link al sito e questo è tutto è stata una mini review ma volevo assolutamente parlarvene perché mi è piaciuta veramente tanto quindi io gli do un bel nome spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti e iscrivetevi anche a tutti i miei social io vi aspetto vi mando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo in un nuovo video ciao